I TR si avvicinano le date fatidiche del 22 e del 26 novembre. Il 22 ci sarà l'ultima riunione in programma a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico. O l'attuale proprietà porterà un piano industriale credibile o il Ministero si tirerà indietro lasciando al suo destino la più grande industria tessile della regione molise. È il giorno 22 a Roma sotto il Ministero ci sarà anche il Sindaco Luigi Brasiello che, indossando la sua fascia tricolore, capeggerà la rappresentanza dei dipendenti TR che manifesteranno pacificamente, a dimostrazione dell'enorme importanza che anche il Comune dà alla soluzione della vertenza. Il 26 novembre invece dovrà essere presentato al Tribunale di Sernia il nuovo piano industriale, ma è buio fitto sui lavori in corso a Pettoranello. Non filtrano indiscrezioni anche se qualcuno parla dell'ingresso di potenziali nuovi soci. E su questo argomento dei possibili nuovi soci o compratori c'è chi chiede alla regione il rispetto degli impegni, come i fasonisti. Che chiedono i fasonisti? Non sappiamo ancora a chi chiederlo. Arrivati a questo punto non si sa. La titolarità e il titolare è irraggiungibile. La regione, ahimè, devo constatare che purtroppo l'assessore Scarabbeo ha sempre dichiarato di avere nuovi soci oppure possibili imprenditori ad intervenire. Io penso che adesso, se è vero che ci sono, adesso è il momento di tirarli fuori, perché siamo arrivati agli sgoccioli. Non ci sono più i tempi. La moda ha dei tempi, purtroppo, ai miei strettissimi. Allora io dico, faccio un appello alla politica regionale. Se è vero come dichiarato e come vantato dalla politica molisana che ci sono le possibilità di nuovi investitori nel Molise e nello specifico della ITRSPA, è arrivato il momento di tirare fuori questi nomi e portare dei progetti fattibili. Dirò ancora una cosa, a smentire forse una parola un po' pesante, ma a controbattere all'assessore Scarabbeo, che non è vero che chi viene in Molise acquisterà una scatola vuota. Ci sono tante maestranze e tanti fornitori che hanno fatto sì che la ITR diventasse il fiore all'occhiello non nel Molise, non in Italia, ma nel mondo.